salve a tutti friends dal vostro supercorris eccoci qua raga oggi topic bello veramente bello che io in quanto spettatore vorrei davvero vedere se lo fossi invece io sono il creator quindi chiaramente me lo vedo per forza allora innanzitutto che dirvi siamo arrivati alla fatidica soglia dei 3000 iscritti 3000 seguaci su tiktok cioè questa è una soglia pazzesca pazzesca raga se me lo dicevate qualche tempo fa non ci avrei mai creduto questo video è dedicato alla utilità dei social per chi ha un canale youtube sono utili come utilizzarli vi dico la mia esperienza io non è che sia un esperto per quanto comunque ho studiato un po l'argomento la vi dico studiare interveniente studiare no serva serva allora partiamo subito un anno fa io quando ho iniziato a ingranare col canale diciamo ho iniziato ad essere seguito perché fino a un anno fa praticamente non mi seguiva nessuno ho pensato di buttarmi anche sui social prevalentemente su instagram ho creato il mio account instagram proprio per la pagina per il canale youtube per i video youtube e twitch diciamo ma twitch ancora mi iscrivevo perché mi sono iscritto quest'estate ho creato l'account instagram e devo dire che mettendo spezzoni delle mie partite foto divertenti comunque le immagini quando ascono i video mi hanno iniziato a seguire in tanti fino a raggiungere la soglia dei 1200 e qualcosa seguaci attuali mi ha aiutato tantissimo questa cosa perché perché chiaramente molti magari che non ti seguono su youtube vedono il post di instagram e poi si iscrivono al canale youtube quello che non potevo immaginare io è innanzitutto un lavoro nel lavoro perciò voi fate il video su youtube dovete ritagliarlo dovete postare su instagram dovete mettere tutti gli tag giusti per essere seguiti poi perché se no non vi segue nessuno quindi friends non è facile quando vi dico non è solo il canale youtube creare il video che già è dura sentivo l'altro giorno ha fatto un bel video l'amico mapo record di game spero che l'ho detto bene perché io sono sempre un disastro con i nomi ha fatto un bellissimo video dove lui spiega perché non riesce a realizzare video montati editati quindi preferisce fare le live che vanno molto bene lo stesso perché lui dice io perdo troppo tempo chiaramente lui penso faccia un altro lavoro non gliel'ho chiesto invece sto facendo solo questo quindi ho più possibilità di montare editare lui dice purtroppo è un enorme dispendio di tempo fare video montarli perché c'è tanto lavoro dietro c'è un lavoro nel lavoro quindi la stessa cosa è pubblicizzare i video che avete fatto poi sui social perché è un altro lavoro scegliere le scene più belle ritagliarle impostarle nella maniera giusta nella mia mente appena un anno fa proprio di questi periodi iniziai a cercare su google quali erano i social in espansione e disse adesso prova a scrivermi anche la con il mio account del canale youtube vediamo un po che succede ho trovato tiktok primo impatto con tiktok devastante ancora oggi credo che tiktok sia troppo un social dove c'è troppa immondizia ma proprio immondizia buttate con le canestre proprio perché a me ragazzi vedere i balletti della gente che non sa neanche fare mezzo passo per camminare mi fa cagare ci sono video belli tanta roba e feccia ho cercato di fare la stessa cosa che facevo su instagram spezzoni belli dei video e in più la pubblicità dei nuovi video in uscita da subito è iniziato a andar bene il discorso si sono iniziati a scrivere io a video che hanno fatto centomila visualizzazioni e non so quante decine migliaia di like l'ultimo di strasuccesso perché ci sono anche video di successo come la battaglia con frank dell'ultima gara in cina che ha fatto quasi 10 mila visualizzazioni e oltre 500 like c'è il video la di rocket league quando nella prima partita ho sbagliato quel gol clamoroso all'ultimo che mi poteva far vincere era fatto 50 mila visualizzazioni e non so quante migliaia di like poi ci sono tutta la parte degli imbecilli che nonostante sia evidente che io sono un giocatore alle prime armi con rocket league se uno fosse intelligente si va a vedere il video e capisce di cosa si tratta no la gente gli imbecilli chi fare vedere c'è uno glielo scritto proprio c'è la faccia da rincoglionito gli ho scritto ma tu stai a parlare cioè se avessi la faccia tua non lo so mi farei un lifting fai schifo sei un deficiente sei ti stai a fare il gradasso fai schifo a giocare vergognati tutti i commenti che poi ho rimosso chiaramente c'è gente proprio furata detto frate io rocket league ci ho giocato una volta e francamente rimarrà sempre una parte molto marginale perché se devo giocare non gioca i giochi del genere gioca i giochi strutturati coi controcavoli sotto alias i vari formula 1 alias giochi che veramente sono belli rocket league ragazzi è bello ci giochi una volta due tre ma non c'è una storia clamorosa non c'è una battaglia non c'è un c'è che crei video su youtube di rocket league fatemi capire quando tanti altri giochi stile formula 1 moto gp assetto corso vrc sono giochi che si prestano oltre a essere molto più emozionanti creano storie molto più belle per quello che sono i miei gusti poi ognuno pensa quello che gli pare però se mi viene insultare a me io ti rispondo allora detto ciò un successo sempre crescente in un anno scarso perché vi ripeto non neanche un anno 3000 iscritti una marea di video che sono andati bene ho visto che soprattutto sui tiktok vanno molto i video di moto gp molti amano la moto gp e tutte quelle fasi dove io comunque come dicono molti anche ma poi ma c'è la telecronica la guidomeda ragazzi non l'ho mai fatto per somigliare a guidomeda c'ho questa voce che soprattutto quando strillo diventa un po rauca e mi inizia da uscire così e ora sì molti mi abbinano a guidomeda non che sia un onore per me perché chiaramente uno dei telecronisti più famosi però raga non ho mai pensato di fare quello molta gente mi ha iniziato a seguire perché la telecronica le fasi di gara divertenti è iniziata a piacere va molto di più moto gp su tiktok che i video di formula 1 ha setto corso e le altre discipline che faccio quindi mi ha fatto veramente piacere automaticamente raga molti ma molti ma molti mi hanno scritto anche su youtube sugli altri social mi hanno detto corrai io ti seguo proprio perché t'ho visto su tiktok quindi immaginate quanto quanta pubblicità abbia potuto veicolare il mio canale tiktok su youtube su twitch perché poi ci ho messo anche qualche spezzone di twitch ci metto anche la pubblicità delle live di twitch quindi raga ha veicolato tanti ascolti un canale tiktok che io non avrei mai 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 immaginato potesse darmi un minimo di visibilità 3000 iscritti dal nulla cioè dal nulla facendo un lavoro di pubblicazione chiaramente giornaliera perché altra cosa importante raga sui social ci dovete mettere dovete azzeccare giusti tag per essere comunque visti e poi raga ci vuole la continuità io ho notato che su instagram c'è stato un giorno dove non pubblicai storie quasi per niente perché ho avuto tanti impegni raga avevo le storie che erano a 100 visualizzazioni tutte quante sono tornate a scendere sempre tutte e ora devi risalire basta un giorno che non mi impegnate a pubblicare ma questo anche su youtube sui vari social e chiaramente la vostra popolarità scende quindi è un lavoro nel lavoro però se lo fate vi ci dedicate al punto giusto nella maniera giusta è un lavoro che vi fa acquisire una marcia in più vi fa crescere e sul social e dopo di riflesso sui vari canali perché se io metto la pubblicità di una live su twitch la sera vengono a vedere 30 persone in più perché c'è questa pubblicità capite raga che di base è un qualcosa di molto positivo concludendo chiaramente su telegram io non sapevo neanche che esisteva telegram mio cugino metto mettitici ti apro i canali provaci mi ha aperto il canale principale che è supercorris 84 canale raga la posso scrivere solo io però metto tutte le anteprime di tutti i giochi che porto metto notizie sketch divertenti e in anteprima e in esclusiva quindi chiunque vuole sapere quello che faccio in anteprima e godere di contenuti esclusivi se è scritto e non è che io l'abbiamo pubblicizzato più di tanto in pochi mesi siamo già più di 100 iscritti però se mi ci metto raga può crescere molto di più c'è il gruppo raga il gruppo supercorris di telegram è bello perché oltre a me scrivono tutti i ragazzi che si sono voluti iscrivere al gruppo ci si scambia opinioni quando io vi dico non mi scrivete privatamente perché non vi rispondo scrivete sul gruppo posso rispondere io e possono rispondere gli altri sia su una curiosità sia su un aiuto effettivo di qualche problema che avete in un volante in un gioco raga pure il gruppo è andato benissimo cresce purtroppo è pieno di gentaglia che si iscrive solo per fare la domanda e dopo si disiscrive ma la faccia loro rimane perché tanto alla fin fine poi quando tornano alcuni sono tornati e li ho bloccati perché non è un albergo che uno entra esce come gli pare se uno ci crede si iscrive al gruppo fa la domanda quando gli serve però sostiene neanche le conversazioni degli altri e c'è infine il canale telegram delle offerte raga il canale telegram delle offerte è l'unico metodo ad oggi che io ho provato per pubblicizzare le offerte di amazon che io pubblicizzo in quanto affiliato che non mi ha dato problemi io fecio l'iscrizione vabbè oggi sono proprio dislessico al top io feci l'iscrizione sull'affiliazione amazon all'inizio gennaio in una decina di giorni ho venduto pure parecchie cosucce poi però pubblicizzavo i prodotti di amazon su instagram su facebook inizia a sbagliare il metodo e amazon mi ha cancellato ho rifatto l'iscrizione e grazie all'amico enzo che metto fa il canale delle offerte abbiamo fatto questo canale preciso oggi io pubblico tutti i giorni quei 20 30 40 annunci raga in ambito tecnologico tutti ghiotti e buoni e la possibilità ottima di pubblicizzare amazon controlla è tranquillo sa che sono pubblicati nel modo giusto tanti vi state iscrivendo abbiamo sfondato quota 160 in un mese qualcosa quindi in tanti vi state iscrivendo e state comprando io penso che almeno ho venduto più di 100 oggetti non pagate un euro di più perché pagate la stessa cifra che paghereste se compraste da soli su amazon però avete la fortuna che io vado a cercare le cose migliori per voi cliccando al volo trovate il prodotto andate su amazon lo comprate io ci ho guadagnato una piccolissima parte per la pubblicità e voi avete pagato lo stesso prezzo aiutando un po che il canale è importante quindi pure su telegram ho puntato e soprattutto ultimamente ci sto veramente investendo tanto tempo di riflesso raga molti che magari un video non lo vorrebbero vedere si vedono lo spezzone in anteprima su telegram lo vanno a vedere molti che magari hanno un problema si iscrivono al gruppo fanno una domanda intelligente molti gli rispondono quindi raga capite che sono tutti i social che si vanno a intersecare sto anche su twitter e sto anche su facebook con supercorriste gamer però là è successo che ho recuperato dei profili di precedenti attività anche molto seguiti perché c'è il profilo del panificio e del team di auto che avevo io che aveva più di 20.000 iscritti però raga nell'ambito videogame adesso non lo segue nessuno perché devo trovare giustamente il giusto seguito però facebook se ne sta proprio scendendo come social giovanile twitter mi seguono ma mi seguono prevalentemente all'estero raga quando pubblico un post su twitter magari lo ripubblicano e rituitano tanti siti esteri e questo è buono perché comunque mi fa acquisire popolarità perciò raga io vi consiglio se avete un canale youtube avete un canale twitter lo volete spingere al meglio pubblicizzatelo sui social ma fatelo bene e questo vi darà veramente una spinta verso l'alto incredibile sono contento di questi 3.000 iscritti raga andiamo avanti così che continueremo a crescere sempre di più intanto già ora sono contentissimo vi do un saluto e ci vediamo nei prossimi video il vostro supercorso ciao voglio